ho fatto questo blog di briga e dalla quale di altri e mi sono fatta qualche segnato di giustamente sono fatta beh dopo se nelle sette mi fanno queste connessioni mi fanno saluterò sul canale youtube di ogni sala e perché mi strappo un blog vi piace o al prossimo video ciao salve tutti bella ragazza e benvenuti comunque stanno arrivando giustamente poi giustamente vedete le sue firme di talento comunque lo scoprirete in questo blog e niente spero non vedo l'ora di arrivare anche se vedete tanto tante cose si incomincia esatto salve a tutti bella ragazza e benvenuti a vedere c'è il mio fratello che non si vuole fare il video con me comunque vai no 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 Grazie a tutti.